E all'insegna del fair play e della convenienza elettorale, mentre la Francia si accinge a gestire la presidenza dell'Unione, l'incontro tra il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro ungherese ultraconservatore Viktor Orban. Vorrei chiarire che la relazione dell'Ungheria con il presidente Macron è di rispetto. Visto che la Francia è la casa degli enciclopedisti e le loro definizioni sono le migliori, tendiamo ad accettarle. Accogliamo anche le parole dette l'ultima volta dal presidente, siamo nemici politici ma partner europei. Mentre Orban per addolcire il suo profilo abbraccia il secolo dei lumi, Macron per strizzare l'occhio all'elettorato più a destra cerca un terreno comune anche con Orban. Lo trovano sul nucleare che entrambi vogliono passi come investimento verde, convergenze anche sulla politica di difesa comune e sulle politiche agricole. Ma è sul nodo immigrazione che Parigi cerca l'accordo. Ci sono state tensioni tra di noi in passato ma ciò che l'Europa sperimenta in queste settimane, e su questo mi sto confrontando anche con la mia controparte polacca, ci chiede di ripensare la nostra organizzazione comune per proteggere meglio le frontiere esterne e trovare un modo di agire insieme in maniera efficace in Europa. I due restano su fronti opposti per quanto riguarda i diritti civili ma la sollecitudine della loro stretta di mano non è da sottovalutare. Sono trascorsi circa 15 anni da quando un capo di Stato francese ha visitato l'Ungheria, ma ora il tempismo è perfetto. Vittorio Orban può dimostrare all'opposizione e al suo campo che, contrariamente alle affermazioni dell'opposizione, non è isolato sulla scena europea. E Macron può dialogare non solo con il primo ministro ungherese ma anche con il leader del gruppo di Visegrad prima dell'inizio della presidenza francese dell'Unione, mentre entrambi si stanno preparando anche per le elezioni del prossimo anno.